ehi ragazzi ciao a tutti e ben arrivati in live ragazzi eccoci qua buonasera a tutti come va ci siete ragazzi si continua su diesel brothers ciao a tutti buonasera buonasera che ci siete buonasera ragazzi come va tutto bene nicchia ma siamo venti e magari arriverà qualcuno tra un po dai ciao nicchia come stai tutto bene ragazzi tutto bene perché è il live perché praticamente tutte le sere faccio live aspettiamo raga vediamo magari viene qualcuno dai aspettiamo due minuti e poi continuiamo magari viene qualcuno magari come stai bene ragazzi sto bene 92 dai che piano piano si sale da me che tempo fa da me c'è il sole ragazzi da me ragazzi c'è il sole ma alla fine 2080 o 2080 ti hai dipende dai soldi raga non lo so penso che aspetta ancora un po purtroppo dubito che c'è al momento non riesco a prendere la latte che hai mangiato oggi oggi ho mangiato spaghetti che mangia cena boh non lo so che codice hai su discord ti mando il link di discord da te c'è il diluvio universale addirittura allora continuiamo dai penso che qualcuno piano piano magari arriverà non lo so allora ragazzi in pratica o i pezzi della macchina metà pronti e metà no perché o non li ho verniciati bene questi oppure non li ho sabbiati bene fatto sta che questi invece sono pronti quindi dato che sono pronti li mettiamo da parte così non li perdo quindi questi sono pronti e li mettiamo da parte questi sono pronti e li mettiamo qua allora questi qua effettivamente si vede che sono un po diversi si vede sì che sono un po diversi direi che a questi gli facciamo di nuovo la sabbiatura perché in qualche modo non sono venuti bene sti pezzi qua questi soprattutto questi poi non ne parliamo proprio quindi andiamo a fare la sabbiatura un'altra volta e poi li verniciamo da capo fai una live farming dopo o no ragazzi dopo no quindi qua dobbiamo fare la sabbiatura di fatti sto pezzo va sabbiato bassi simulator vediamo poi ragazzi in questi giorni ovviamente si continua anche con gli altri giochi crea una macchina fantastica la ripariamo certo ci proviamo a fare una macchina fantastica allora qua io facciamo il pieno perché sennò ma che fa ce l'ho fatta sia ce l'ho fatta ce l'ho fatto allora facciamo facciamo la sabbiatura da capo che fa a me pare quasi che è proprio sabbiatura questo ma io pensavo che avevo verniciato sti pezzi ma sti pezzi non so più verniciati sempre quality 99 per cento ma come diamine è possibile questo gioco tratta in pratica la riparazione delle delle auto diciamo così in questo caso devo riverniciare la carrozzeria però stranamente rimane sempre al 99 per cento vediamo se questo qui posso fa qualcosa boh forse sti pezzi sono da cambiare non lo so forse sti pezzi sono da buttare proviamo invece a fare la sabbiatura a questo qua nicchia per favore mi puoi raga non faccio saluti uno ad uno scusate allora facciamo la sabbiatura al cassone qui si vede che ci vuole ciao buon pomeriggio anche a te buon pomeriggio a chi è appena arrivato ok e la sabbiatura qua è fatta pure allora dobbiamo andare mo in verniciatura quanti anni c'ho 31 raga 31 forse che la sabbiatura non è completa è un bug può essere non lo so il rumore realisticissimo pare così allora questo qui non so se al 99 per cento al cento non lo dice proprio fatto sta che però devo verniciare mosti pezzi ma io ricordo che li avevo aspetta a quello poi al cento per cento però ma che ci capisce cosa alla riforme no non mi serve questo colore e mo qual è il colore che ho scelto l'altra volta forse era questo sì questo è il colore che ho scelto l'altra volta allora porterai plano planet coaster non lo so non penso di portarlo sì minecraft lo riporterò lo riporterò ragazzi ma penso tra un po però ragazzi ma penso di portarlo 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 la tua donazione no non pare che sia arrivata non lo so non ha suonato niente sì alex l'ho sentito ragazzi questa sera dobbiamo registrare insieme questa sera ragazzi registriamo insieme io ed alex finalmente dopo tanto tempo vero cento per cento fino al vabbè non vediamo come va a finire qua invece no non mi metto a comprare la 2080 poi la restituisco per la ti cioè ma no non faccio queste cose vedi che non sei per il suo canale o per il tuo nel mio canale ragazzi e alex registriamo per il mio canale ma sempre 99 per cento mi da sì ma io non ci spendo altri soldi qua per sistemarsi pezzi ragazzi 99 o 100 per cento non vale la pena spenderci altri soldi lo teniamo a 99 via cavolo non mi metto mica buttarci soldi mo così è così rimane 99 ea voglia raga non c'è butto altri soldi su sti pezzi non vale la pena mentre che mi guardi giochi a minecraft ok buon divertimento riporterai turista basso certamente ecco ma è arrivata la donazione ma è arrivata eccola qui moreno grazie tante grazie c'è un'icca se il migliore pure lupetta grazie moreno grazie allora boh che poi non dice manco se qui l'ho fatta al cento per cento oppure no mica quando vende i cavalli con i soldi compra john deere serie 6 ancora trattore a più che altro io sto sgobbando per la miti trebbia come trattori mono stiamo messi male male sì ma sto pezzo a 18 per cento cavolo se riesco lo compro nuovo sto pezzo perché a 18 per cento è proprio da buttare questi qua sono da buttare per ora per ora li coloro ma me sai che li butto questi questi teoricamente li butto perché sono troppo vecchi ma questi al 99 sono ancora buoni ovviamente sono buoni sono come nuovi cavolo l'avesse la mia macchina la carrozzeria al 99 per cento cavolo allora questa l'ho colorata pure benissimo torniamo in garage va allora facciamo una bella cosa dobbiamo spostare un paio di cose sposta la fotocamera ma lì può star bene ci sta ragà la fotocamera dove ora va benissimo dunque gestione spostamento vernice questa qui la mettiamo in magazzino ok questo è in magazzino mentre quello che sta in sabbiatura questo lo spostiamo in vernice ok allora aspetta un attimo che qua ok allora veniamo un po la situazione questi pezzi che sono buoni li mettiamo qua anzi meglio se li metto da questa parte aspetta ma sono diventati al cento per cento aspetta un po mo sono diventati al cento per cento questi invece sono rimasti da buttare questi sono rimasti da buttare ok allora ma su farming non puoi fare una serie all'italiana e raga ma non mi conviene avere un mucchio di serie attive su farming cioè già ormai sta andando malino farming no ormai come dire c'è molta meno gente che lo guarda che senso ha a fare un mucchio di serie su farming se ormai la gente quasi non se lo guarda più lo so che è diventato ripetitivo lo so il problema è che al momento comunque anche io non sto trovando giochi interessanti di fatti sto cercando tra poco di riportare minecraft giusto per cambiare ma non so manco io più che cosa portare inutile che mi dite porta fortnite a me non mi piace non ci posso fare niente una live su eurotrack la farò di sicuro una live su eurotrack la faccio sempre oh grazie mille bomber per la donazione thank you thank you che pc hai guarda in descrizione guarda in descrizione che ci stanno i link dei miei componenti grazie bomber allora standard destra cornice del fanale anteriore ma io sta cosa la stavo cercando ma non la trovo qui nel non so perché su carrozzeria sta cosa non si trova carrozzeria sti pezzettini piccolini non si trovano la cornice dove cacchio si trova non se sa fanale 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 ma la cornice boh no butta quei pezzi brutti sì ma non trovi pezzi di ricambio non li trovo cornice e deve essere questo è certo cornice fanale anteriore deve essere lei il lancor destra mi serve la sinistra il lancor cornice acquista destra acquista standard oh ma come si chiama standard destra mi serve standard sinistra scusa come fa a non esistere non può non esistere porca miseria standard destra fanale anteriore avranno sbagliato con il nome è troppo strano sinistra 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 e ai la ai ai coso qua ma non è standard ma perché standard destra destra standard it's acquired no porca miseria non è possibile manca per me manca standard sinistra manca potresti fare un video dove provi giochi per mobile non mi piace giocare su mobile nicchie su farming per evitare che trattori in penne metti la falciatrice piccola davanti e quella grande dietro lo so ma io dietro preferisco metterci altro bomber grazie di nuovo per la donazione compra un deutz far su farming grazie per il consiglio lo terrò a mente quando è che porta american track raga non lo so spero di portarlo anche abbastanza presto raga niente ma su standard sinistra non si trova il lencore perché le cose le mettono mischiate great eccola lì arrivata mo non lo so perché non lo trovo trovo raga allora facciamo così gratte sinistra vediamo se trovo la gratte o pigliamo questo e che ne so boh pigliamo questi l'altro lo tengo non lo so l'altro lote si sarà baggato boh boh non lo so ho comprato ormai quello raga ormai ho comprato quello allora la roba nuova arriva tra due orette due orette intanto che si può fare qua intanto direi che smonto le gomme va mi preparo su questo house flipper non lo riporto al momento raga no non lo regge il mio pc al momento la mia scheda video non lo regge difatti per quello che non vedo l'ho di cambia scheda video compra il motore lo cambiamo di sicuro il motore ma ci arriviamo a tempo debito come si suol dire ancora presto per il motore che cosa ti sei perso nulla di che ancora niente di particolare sto sistemando la carrozzeria anche se la carrozzeria potevo tenerla per ultima però vabbè noi e sequer da non vuol dire sinistro perché c'era scritto in più punti il motore quanto può costare o era da 5.000 a 10.000 non mi ricordo più o meno non ricordo il preciso formula 1 2019 no non lo porterò guarda il disegno della figura ormai ragazzi l'ho già comprato inutile voglio dire inutile ormai fare cambio ti compri una 2080 ma io penso che ma che sto coso beh penso che ci basta roba qui davanti vero ci andrà da qualche che cacchio comprato ha posso capito che cos'è speriamo di aver capito i cerchioni credo che non si possono colorare non credo riesce ad aggiustare in una live non ne so sicuro verniciatura e andiamo allora quindi c'è sto pezzo qua da verniciare questo non mi serve lo mettiamo qua no ma il mcar non lo porto raga come si è messo con la macchina male ancora molto lontano dal finire allora manca solo sto pezzo da verniciare direi che io do l'ultima passata pure qua non si sa mai metti che mi sia sfuggito qualcosa ok basta non c'è altro da verniciare allora torniamo quindi in garage abbiamo verniciato tutto non lo so se riesco a finire in questa live la macchina come mi trovo con la croma benissimo sì le macchine si possono guidare no vabbè formula 1 diciamo che i giochi troppo impignativi nella guida non so granché capace quanto tempo serve per assemblare un pick up un po di ore direi che scheda video c'è attualmente una 1070 nicchè la fai quest'auto fai quello che ti rispetta a te questo non l'ho capita proprio comunque vediamo un po quindi questa è tutta roba vecchia la roba vecchia mo la mettiamo qui da qualche parte perché tanto è tutta roba da buttà no ma comunque non penso proprio che riusciamo a finire sta macchina in questa live veramente richiede un mucchio di tempo ma tanto che domanda è ma per fare questa live hai pagato le tasse certamente allora lo stile delle si ci stanno varie gomme si si possono quindi fare varie si ci stanno varie gomme vari cerchi si diciamo si possono apportare varie modifiche allora ragazzi dunque vediamo un po la carrozzeria ce l'ho tutta diciamo ma cominciamo a smontare mezzo mondo qua c'è da smontare mezzo mondo ragazzi veramente adesso comincia il bello però i pezzi li devo mettere in modo tale che devo mettere i pezzi in modo ordinato così non vado in confusione quando poi devo rimontare tutto sicuramente mi tocca fa così che stile di gomme mi piacerebbe mettere ora poi le guardiamo ancora presto è ancora abbiamo da riparare la macchina è è possibile che house flipper non ti gira ma allora house flipper non mi gira bene perché io gioco in 4k e per quello in 1080 si va abbastanza bene ma è che purtroppo a me mi tocca giocare a in finestra se gioca schermo pieno dei problemi stia facendo molte live anche in settimana lo so quando è la prossima live sicuramente domani sera il gioco dove aggiusti gli aerei mi dava problemi e l'ho mollato no quando ho iniziato su youtube non ho avuto subito successo diciamo che dopo nove mesi le cose sono andate meglio i primi nove mesi cioè in nove mesi ho fatto 300 iscritti all'inizio poi nel giro di un mese sono passato da 300 iscritti a 5000 diciamo così e poi sempre a salire a salire a salire allora vediamo un po i pezzi ragazzi dobbiamo mettere in un modo tale che capisco perfettamente l'ordine di rimontaggio altrimenti poi vado in confusione come l'altra volta quindi devo mettere da qualche parte sta roba e devo più o meno capire l'ordine quindi ora mettiamo le cose in modo tale che non vado in confusione poi quando rimonto i pezzi quindi questi sono gli ultimi pezzi che devo montare quindi mettiamo le cose messe per benino in giro in modo tale che non ho poi problemi quando devo rimontare la macchina bravo Nick sei un grande grazie tante caro thank you domani finisce domani finisce maggio strano guarda meno male perché non se ne vuoi più sto a me si fa proprio schifo col tempo quando farai video con xstarter ma il fatto è che io non faccio gta e quindi automaticamente non facendo gta non giochiamo a giochi simili allora hai mai giocato a the witcher 3? credo di sì ma non mi è piaciuto tantissimo i pezzi che smonti mettili sullo scaffale il problema è che anche se li metto sullo scaffale vado in confusione al rimontaggio allora questo lo metto qua quindi metto le cose in modo tale che che poi riesco a rimontarle per bene a me piace di più la playstation raga mi metto qua raga mo vado sempre verso destra e poi facciamo il contrario da destra a sinistra e rimontiamo la macchina ovviamente i pezzi quelli sono tutti da buttare però per ricordarmi l'ordine solo per ricordarmi l'ordine eh nicchie pezzi no mi è sparito il messaggio niente tanto alla fine la roba da qualche parte la devo mettere comunque allora vediamo un po' il trapano l'avvitatore anzi che cosa mi sono perso la verniciatura più che altro ho finito di verniciare i pezzi di questa macchina mo però bisogna smontarla tutta stai giocando a fortnite ahhh brutta cosa no fortnite non va bene è un brutto gioco è un brutto vizio è come le sigarette fa male nicchie metti i pezzi nuovi che i clienti non vogliono pezzi nuovi che i clienti non vogliono allora ah questi li ho già smontati certo ci vuole un bel po' di tempo per smontare sta macchina non c'è dubbio però ciao nicchie come stai sto bene ragazzi ben arrivati nicchie quale pizza ti piace di più la napoli o la margherita sai che la napoli non lo non so neanche cosa c'è sulla napoli la margherita beh ovviamente la conosco diciamo che vabbè dalle mie parti mi piace la capricciosa diciamo ecco su questo gioco non posso assumere dipendenti però si può giocare in multi in questo gioco allora beh fino a qua ci siamo i prossimi pezzi da smontare pare che sono questi quindi smontiamoli in cosa consiste questo gioco beh in questo gioco bisogna riparare i veicoli e poi li rivendi compri i veicoli usati li ripari e li rivendi ok no non ho tempo poi per farming raga non posso fare altre live e poi la macchina altro che finirla ancora lunga è sì questo gioco sembra car mechanic ma fatto meglio è vero perché su car mechanic diciamo che gli oggetti li togli e non non te li dai in mano te li metti in una specie di inventario qua invece no gli oggetti li devi proprio mettere tu da qualche parte ma rivendere un veicolo spendi sì beh ovvio per ripararlo devo spendere soldi per i pezzi nuovi questo è ovvio aspetta ma che devo smontare mo qua vabbè c'è un mucchio di roba da smontare allora non gioco più perché ti arrabbi ma no ma per me puoi giocare benissimo a fortnite ti pare è per scherzare ripara camion camion non ce n'è ci stanno credo ci stanno solo pick up allora questo qua beh questo va rimontato pure quindi lo mettiamo qua perché insomma ho tolto questo quindi poi ci arriva a questo ok questo è il prossimo poi va bene e fino a qua ci siamo così ragazzi almeno non perdo un mucchio di tempo poi per rimontare il veicolo la macchina la vecchia macchina dov'è quale macchina vecchia tutto con sto trapano faccio io ragazzi siamo in pochi eh lo so ragazzi eh lo so lo so ragazzi che ve devo dire a che ora finisce la live entro le sette e mezza su farming che mappa ti consiglio io l'unica che ho provato oltre a quella originale è la woodshire quindi ti posso dire solo quella non giochi più a fortnite oh allora è così ragazzi abbiamo un bellissimo ordine cioè abbiamo un bellissimo ordine adesso mo si capisce per bene come si come è la storia qui della macchina cacchio devo togliere mo togliamo questo micchia sai che è uscita la mappa old west farm no non ne so niente raga però ripeto non posso portarvi un'altra mappa perché non posso portare un mucchio di mappe tu guardi ma non scrivi vabbè comunque ovviamente grazie per essere qua il meccanico nicchè esattamente allora vediamo un po' quale quale pezzo smonto mo mo togliamo questo così almeno ci occupiamo della trasmissione compi il motore in questa live se arrivo a smontarlo di sicuro si e credo che ci arriviamo a smontarlo bene questo è il prossimo solleviamolo un po' di più vediamo un po' mo mo che smonto la trasmissione la lasciamo per ultima facciamo così occupiamoci dello scarico va ciao a chi va ragazzi diesel brothers fratello della benzina no fratello del diesel direi allora questa è tutta la parte dello scarico perché non me lo fa togliere che devo togliere ma devo togliere pure questo eccolo qua allora ma sto garage sembra un tunnel ebbè se è fatto così se dovete riparare la macchina chiamatemi che appunto raga solo 100.000 euro a riparazione a miseria a miseria è vero c'è che a lamborghini che mi portate ma 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 neanche costa così tanto mi sa o beh forse si chi lo sa allora l'ho mollato manca ancora qualche cosa però che ti amine manca qua ah manca questo no non me li fa ah ecco i tuoi uccellini mi salutano ok allora vedete con un po' di ordine poi il rimontaggio è facile vabbè una volta ho letto di uno che per fare il cambio dell'olio alla sua ferrari non ricordo praticamente imbarcava la macchina su di un aereo e mandava la macchina in italia per fargli fare il cambio dell'olio perché chissà dove stava lui non mica era buono l'olio mandava direttamente la macchina in italia per fargli fare il cambio dell'olio ho letto una volta di sta cosa tu hai una giraffa come no la tengo nell'armadio allora vediamo un po' lo scarico in pratica l'ho quasi smontato tutto allora ma che manca eh manca tutta sta parte qua vabbè no l'ho già smontata che manca devo abbassare un po' la macchina motore fluttuante in aria lol perché non riesco a togliere sti pezzi aspetta 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 ok è complicata sta parte oh finalmente perché sono pelato eeeh la natura raga sopra l'auto scrivi cinicche allora mo togliamo questo e piano piano raga l'ordine ci aiuterà poi nel rimontaggio magari c'è qualcos'altro che posso togliere no allora e mo aspetta 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 ancora niente allora piano piano raga perché con tutti questi bulloni vado in confusione ancora niente quale cacchio è il prossimo pezzo da togliere etna comics no non penso di esserci raga veramente non ci sono mai andati in vita mia eccolo qua il prossimo pezzo nicche ma l'olio non lo hai mai cambiato no ancora non si può sostituire l'olio ancora non hanno aggiunto questa cosa so che con i prossimi aggiornamenti si potrà sostituire l'olio si potrà cambiare in modo realistico poi la gomma tipo al momento basta fare così per sostituire la gomma ma con i prossimi aggiornamenti cambiare la gomma non sarà più così facile quindi al momento l'olio non si può cambiare ma presto si potrà fare al momento ancora non si può ok piano piano raga comunque togliamo i pezzi e poi a mano a mano li rimontiamo al contrario allora ammortizzatori il lavoro qui di smontaggio è lungo parecchio lungo si che ci ho giocato a skyrim l'ho finito un mucchio di volte bellissimo gioco quello a voglia troppo bello quel gioco continuiamo a smontare ormai comunque manca poco non c'è moltissimo da smontare per fortuna il motore non va smontato completamente ah beh che tanto noi lo dobbiamo comprare un uovo quindi i trapani stanno conquistando il mondo si questi quasi sicuro questi qui a batteria di sicuro raga ormai più li vedi dappertutto questi qua no a grani non ci ho mai giocato come hai fatto a scaricare farming e come ho fatto da steam raga come volete far allora aspetta un po' ma che ho tolto ho tolto quello no manca in pratica questo nike se continuano con gli aggiornamenti sarà realistico al 100% e teoricamente ho letto che dovrà finire così diciamo dovrà diventare abbastanza realistico e mo che cacchio manca ok prendiamo questo sono un boss grazie grazie mille per il complimento dai che così è facile rimontare la macchina comunque basta poi seguire il percorso inverso pare che per ora non c'è altro vediamo allora che diamine mi manca ok quanti campi hai qui campi non esistono non esistono non esistono non esistono non esistono Grazie a tutti. Sto ingranaggio sembra un fucile. Allora. Ormai manca poco, dai. Vediamo un po'. Aspetta, mettiamoli bene perché sennò poi l'ordine lo conf... Dov'è cacchio vai? E vabbè va. Ecco. Più o meno. Allora qui ce n'era un altro. Dov'è cacchio è? Un altro ci deve... Eccolo qua. Ok. Ti è mai capitato che ti arrivi una carta a casa e ti trovi scritto che vivi ancora in Germania? Ma quando mai? Scusa. Come fa ad arrivare una carta in Italia con scritto che vivi c'è? Non ha senso, no? La cosa non ha proprio senso. Allora. Mi sa che da sotto non c'è molto altro. Vediamo un po'. Smontiamo la trasmissione. Immaginazione. Che mo' tocca a lei. Sono il tuo preferito, grazie. Allora. Hai una Bugatti? No, ne ho due. Ma ti pare? Che me ne faccio di una sola? Penso di comprare la terza, fai un po' te. Dove cacchio è il coso? Dove è quello per smontare la trasmissione? Ah, qua è. Ma come cacchio si toglie sta trasmissione? Ma non è che è nuova sta trasmissione qui sopra, vero? Sì, ma anche volendo, ma io non capisco. Gestione. Spostamento. Accidenti. E mo'? In magazzino tipo c'è una parte vecchia. Non so se è nuova, se è vecchia. E chi cacchio lo sa? Aspetta un po'. Ma che magazzino? Ma che cavolo è? Dove diamine la piglia? Dove la metto? Garage? Party? Non ci sto a capire niente. C'è qualcosa che non so come risolvere. Io non capisco, raga. Tipo sto pezzo. Ah, la metto qua. Ma non capisco. Ma... Questa è una trasmissione e questa è un'altra trasmissione. Sì, ma non capisco come... No, questo è un altro pick-up, uguale all'altro, ma è uguale. Sì, ma io non sto a capire, raga. Come cavolo funziona qua? E per lasciare... Come si vende sta roba qua, porca miseria? Negozio vendi. Dov'è la trasmissione? Non si sa neanche dov'è la trasmissione, ma anche me la fa vedere sta trasmissione. Eh, ma il fatto è che io non so, tipo, come togliere la trasmissione da lì sopra. Cioè, non ci sto a capire niente. Boh... Porca miseria. Io vado a cena e ci sento dopo lì. Ciao, buona cena Lupetta. Grazie. Ciao. Eh, dunque, questo... Questa è la trasmissione. Come ti amini? La metto qua. Non ci capisco niente. Mannaggia miseria con la trasmissione. E infatti che non so come si vende la trasmissione. Ma non è che è un bug. Cioè, tipo, come cavolo... Boh... Non ci capisco niente. Non so come si toglie la trasmissione da qua sopra. E questo è un bel problema. Questo è un gran bel problema. Tipo, io so che qui sopra c'è... Allora, qui c'è una trasmissione. E la metto nel magazzino. Ok. Però so pure... Io so pure... Che qui c'è un'altra trasmissione. Ah, aspetta un po'... Ah, come si fa? E chi l'aveva capito questo, porca miseria? Ora ho capito. Ora ho capito. Meno male. Dopo un po'... Finalmente ho capito qualcosa. Ok. Ma come si fa a capire se sto pezzo è nuovo oppure no? Cioè, dove si vede se il pezzo è buono? Non c'è scritto da nessuna parte se il pezzo è nuovo oppure è vecchio. Da nessuna parte lo dice. Qualsiasi veicolo standard. Ma non si capisce se è nuovo o è vecchio. E questo è un bel problema. Provalo a svitare col trapano dal piede. No, non c'entra niente. Non si capisce se il pezzo è nuovo oppure è vecchio. È troppo importante questo. Perché io devo montare una trasmissione nuova, non certo vecchia. Ma se non mi dice se è nuova o è vecchia. Vediamo un po'. Zeta o quello che è. Evidenza strumento o no? Non si sa. Facciamo così. Allora, per intanto smontiamo la vecchia trasmissione. Ok. Ok. E ora? Ok Va bene La trasmissione l'ho smontata Ma il problema è La trasmissione Questa trasmissione è vecchia O non è vecchia Boh E chi lo sa Questa è una delle poche cose Ma a di la verità Qui lo dice tipo vedete 18% Il motore invece non dice niente Il motore non si sa se il nuovo è vecchio Non lo dice Ci passi sopra ma non si sa Qui ci passi sopra non si sa Facciamo una cosa Aspetta Questa cosa qui Mi sa che la devono sistemare Perché così com'è non ci capisco niente Allora magazzino Mettiamo in magazzino la parte vecchia Eh lo so Su Car Mechanic lo diceva Ma qui che ci capisce cosa Ok Si sto a fare la collezione Delle trasmissioni Non c'è ombra di dubbio Allora Pio questo E lo metto in magazzino Pio questo E lo metto qua Allora Mo c'ho sto pezzo qua io Proviamo a montare questo pezzo Sulla macchina Vediamo se mi dice qualche cosa Tanto alla fine Di la verità No E premi E per staccare la trasmissione Ok Allora Beh tanto per capire Ma il problema è che non si sa Se sta trasmissione È nuova oppure no E il bello è che non me la fa Questa è vecchia Dici Eh ma Il fatto è che non si capisce Se è vecchia o è nuova Se vado su vendi Se io vado qui La trasmissione Neanche le vedo Quelle in magazzino La trasmissione Che è nel magazzino Neanche la trovo Vediamo Trasmissione 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 No Io la trasmissione Proprio non la vi Scatola Ah Scatola del cambio Eccola qua Scatola del cambio Ok Mo finalmente L'ho trovata Scatola del cambio Ok Trasmissione Scatola del cambio Sono tutte brutte Tutte da buttare Ok Facciamo così Vendere E mo 15% Vendere Ok Almeno Almeno Cominciamo un po' A capire Sta cosa Quindi va bene Quelle vecchie Le ho vendute Erano proprio da buttare Quindi la devo mettere In magazzino E poi da lì La trovo Quindi Mettiamola in magazzino Pure a questa Allora Mo comincio a capire Comincio un po' A capire Dai Ci si perde del tempo Ma almeno Allora Pio questa E la metto in magazzino Adesso Vado qua Negozio di ricambi Vendi Cerchiamo Eccola qua Eccola qua Eccola qua No Questa è al 100% Questa è buona Invece Questa Rugline È buona È buona È buona 100% Nuova è Perfetto Quindi non la devo comprare Va bene E allora Fino a qua ci siamo Raga Fino a qua ci siamo Quindi a questo punto Continuiamo a smontare Semplicemente Il motore Adesso Cosa mi sono perso Un bel po' di roba Lo smontaggio di questa macchina Quanto costa questo gioco Non ricordo Vai a guardare su Steam Perché sinceramente Non me lo ricordo Aspetta Prima devo togliere questi Però Una specie di ferro di cavallo Come va la live Tutto bene Raga E piano piano Inizio a capire Come funziona Comincia ad andar bene Poi ovviamente Le macchine successive Saranno ancora più facili Da smontare Era bello Se si poteva riparare Le auto d'epoca Si può fare Su Car Mechanic Quello Beh chissà Magari Metteranno qualcosa Di simile pure qua Ma Ma qui ci stanno Solo auto diesel Quindi Dubito Allora questo è Il collettore Di scarico Piano piano Ragazzi La macchina L'abbiamo quasi Smontata Completamente Hai smontato Tu la macchina Ma non ricordi più Come si rimontano i pezzi Ecco perché Io Vedi Io ho smontato In ordine In modo tale Che poi i pezzi Li rimetto In ordine Così non posso Sbagliare Infatti Io vedi Sto smontando Seguendo un certo ordine Per evitare problemi Vedi Smontando la macchina In questo modo È una cavolata Il radiatore Allora Ma il motore Lo posso smontare Spero di sì In qualche modo Non è che mi manca Qualcosa È vero Per smontare Il motore Nick Da piccolo Qual era Il tuo youtuber Preferito Guarda Quando ero piccolo Io Non esisteva Neanche Youtube Quindi Come poteva Come poteva avere Uno youtuber Preferito Io Quando ero piccolo Io Non esisteva Proprio Youtube Youtube Voglio dire Quando è che è nato 2005 2004 Una roba simile Io già nel 2005 Avevo più di 20 anni No Che cacchio sto a dire Ne avevo 18 18 E non ero piccolo A 18 anni Voglio dire A 18 anni Mica si è piccoli E ancora youtube Era Neonato Comunque Ma sto motore Come cacchio Si toglie da qua sopra Bella domanda Non l'ho mai fatto Ci deve essere un modo Per togliere il motore Non è che è sempre questo Vero No Come cacchio Si toglie il motore Da lì sopra Devi comprare La gru per motore Ecco Ehm Giornamenti Garage Parancomotore Ah eccolo qua Oh Menomale I soldi ce li ho A posto Perfetto Menomale Giusto Giusto Proprio qua Che diamine devo fare Ah ecco Ah no 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 Aspetta 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 Ho capito Ho capito Ho capito Si devo tirare giù Il ponte Pensavo Pensavo quasi Che lo smontavo Da sotto Ma no Non è così Ok Un attimo Di confusione Chi è che non ce l'ha Beh No Ma che cacchio si usa Ma no Ah ecco Ok Ok Vabbè dai però Come cacchio faccio Ah ecco Ok Ok Bono Ok Ok Il motore Lo mettiamo in magazzino Tanto sicuramente Da buttare E poi lo vendo Gestione Spostamento Perché non me lo fa spostare Da qua Qualcosa manca Qualcosa manca Aspetta Non l'ha agganciato Ok No 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 Eh non ci siamo Ma che diamine devo fare Aspetta Come cacchio si aggancia Devo capir Raga Devo capir Come funziona Sto cacchio di coso Devi togliere Ah la cpu E il problema Porca miseria E' vero La cpu Non l'ho tolta E mo me la fa togliere Vero Banane Che me fa togliere La cpu Eccola qua Cpu Allora Continuo proprio a non capire Ma funziona E' per staccare il motore Ah Finalmente Oh madonna Quanto è complicato Guarda E' dannatamente complicato Allora Gestione Spostamento Pio questo Lo metto in magazzino Oh Finalmente Allora Apriamo il computer Gestione Vendi Motore Quanti cavolo di motore c'ho io Uè Ah no 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 Questa è la trasmissione Che c'entra No 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 Ho sbagliato Eccolo qua Motore Ok 6.6 V8 6.6 V8 Bullet Compriamo il motore Speriamo che non costa troppo Motore Motore 6.6 V8 Bullet 5000 Beh volendo Volendo potrei anche mettere un motore più buono Eh Ci abbiamo motori Quasi quasi 10.000 Dai Un bel motore potente Speriamo che poi ce la facciamo con i soldi A riparare Insomma Avete capito Vabbè dai Pio quello buono Dai Boh Pio più buono Ok Che manca mo Mancano ancora un paio di cose Speriamo che ci abbassino i soldi per il resto Speriamo proprio E' rimasto raga praticamente solo scheletro E non è finita Se non ricordo male Ah no è finita invece mi sa Mi sa che invece Ah no aspetta Ma questo qui però è pure da buttare Questo Aspetta Supporto motore Boh vediamo Eh già I supporti del motore Oggi sei sprint In che senso Allora Penso che questo va messo in magazzino Gestione Spostamento Questo Lo metto in magazzino E' andata No No non va Perché? Un momento No c'è qualcosa che non mi guarda Ma perché non Forse manca qualcosa Forse mi manca qualcosa da togliere Mancherà qualcosa Perché questo qui pure Deve sparire da qua Ma in pratica Ma in pratica effettivamente Sto sistemando una macchina da zero Cavolo Perché praticamente sto buttando tutto E alla fine a che serve Effettivamente a che serve Comprare una macchina usata Se poi comunque sia Sto buttando tutto E compro tutto da capo Non è più una riparazione Sto a creare una macchina da zero io Appunto sto creando una macchina da zero Non ha più senso Se pure la carrozzeria la sto a buttare Non rimane niente in pratica della macchina Necessario prima disinstallare parte Ah quindi qualcosa manca ancora da togliere Manca ancora qualcosa da togliere Manca qualcosa ma non si sa che cosa Ah forse manca sta roba qua sotto Che ne so Beh col trapano non mi fa togliere niente A quanto pare No Il prezzo dietro Ah vero 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 Questi hai ragione Li ho dimenticati È vero È vero mancavano sti cosi piccolini Ecco cosa mancava A questo punto Ok magazzino Ale Era ora vediamo un po dove sto pezzo eccolo qua e difatti eppure lui da buttare accidenti ok ragà in pratica la macchina che l'ho comprata fa tanto alla fine tutta la butta non c'è niente che sta salva in pratica in pratica secondo me dovevano fare come su car mechanic che c'era la possibilità di riparare i mezzi magari qualcosa non la riparavi e la buttavi però buona parte delle cose insomma la recuperavi a sto punto che senso ha comprare una macchina vecchia se tanto poi so che devo buttare tutti i pezzi tanto male che non compro proprio la macchina compro i pezzi uno a uno e me la monto giusto a sto punto che senso ha se è tutto da buttare l'unica cosa che ho recuperato sono solo le porte ho recuperato sono la carrozzeria ho recuperato che l'ho riverniciata ma voglio dire non c'ha senso e prova cosa a riparare i pezzi ma non c'è scritto da nessuna parte che si possono riparare i pezzi io da nessuna parte ho visto che si possono riparare i pezzi cioè voglio dire non si fa nicchi che devi riparare non c'è rimasto niente tutto da buttare appunto e tutto da buttare dovresti cercare i pezzi dallo sfascia carrozze anche questo è vero anche questo è vero andiamo un po da sto sfascia carrozze vero è proprio vero andiamo a dare un'occhiata anche se dubito che trovo qualcosa devo dire discarica che poi la discarica e che ha che c'è trova la discarica roba da già roba buttata ci trovi c'è ma che senso a bo 11 per cento da buttare a prescindere 20 per cento tanto dato che la roba non si può riparare ovviamente che cacchio me ne faccio 14 per cento vabbè lasciamo perdere quello 5 per cento cinque per cento vabbè tutto discarica che senso ha è tutta roba da riparare ma il gioco non te le fa riparare non c'è il modo di ripararle magari una cosa che devono aggiungere probabilmente devono aggiungere la star roba cioè devono aggiungere magari la possibilità di riparare gli oggetti ma al momento non c'è quindi al momento sta roba è in discarica perché merita di stare in discarica andiamo a casa garage garage insomma raga no qual è fortuna non mi piace quando finisce la live una ventina di minuti raga una ventina di minuti sti pezzi quasi da buttare comunque quindi andiamo a comprare le cose è impossibile che tu non possa riparare i mezzi da nessuna parte c'è scritto che io posso riparare i mezzi da nessuna parte c'è scritto c'è solo qui la possibilità di comprare la roba da buttare insomma ma per i negozi di ricambi carrozzeria mi serve in realtà la struttura pezzi extra no carrozzeria cabina no dove compro la roba lì insomma la struttura dove cacchio è i pezzi da buttare alla discarica e ma intanto ci ho provato l'altra volta non li prendono non se li prendono aspetta aspetta deve essere qui da qualche parte è tutto così messo buttato a caso sarò io che non ci sto a fa caso lo scheletro lo scheletro appunto lo scheletro dove cacchio si trova lo scheletro dove diamine attrezzi no che me ne faccio aspetta scheletro c'è proprio scritto scheletro no magnifico ma non è che lo scheletro non si può comprare anteriore titanio telaio telaio anteriore telaio 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 io sto telaio non lo trovo si chiama telaio si è questo l'ho visto ma dov'è dove dove si trova nella sezione eccolo qua eccolo qua si trova si trova su sospensione porca miseria telaio vabbè allora qualsiasi veicolo aspetta non voglio fare cavolate anteriore acciaio beh non ho tanti soldi quindi ne compro uno non troppo costoso ok mi serve la parte posteriore anteriore posteriore in acciaio ok a posto il tuo è titanio ma non importa raga è uguale uguale i pezzi vecchi erano in titanio quelli nuovi li posso mettere come mi pare piace ok sicuramente la macchina non avrà lo stesso valore ma allo stesso tempo non so a spendere un mucchio di soldi perché abbiamo 25 mila dollari con 25 mila dollari in pratica devo comprare tutta la macchina è accidenti è tosta non potevi portare euro track lo posso portare anche domani qual'è il problema sto pezzo qui l'ho comprato quindi di troppo uh abbiamo i dischi qua buono almeno questi non li devo comprare al massimo ne devo comprare uno preferisci gta 5 track simulator sono due giochi completamente diversi che senso ha no fortinet non mi piace comunque grazie per per avermi detto bravo nicche ehm e mo c'è solo da aspettare che arriva la roba mo cominciamo a ordinare un po' di roba per rimontare tutto tra un attimo arriverà qualche ah credo che sta per arrivare il motore ah già a proposito ma il motore arriva penso in magazzino no buh questa è tutta roba da buttare comunque che senso ha veramente comprare una macchina per poi buttarla comunque tanto male non comprarla proprio oh ecco ah beh questi non mi servono mo ci vuole troppo tempo prima che mi arriva la roba di ricambio intanto io che cacchio faccio vabbè intanto comincio a ordinare i pezzi va allora devo comprare due supporto motore allora cominciamo a ordinare i pezzi intanto che arriva la roba così ok la cpu mi sa che non mi arriva insieme al motore mi sa che la devo comprare a parte però per ora per ora non importa quindi sta roba qui l'ho già comprata la cpu poi vediamo mi serve un radiatore radiatore racing alluminium racing forza horizon allora radiatore negozio acquista motore radiatore alluminium racing non è disponibile non lo posso comprare ok allora compriamo una via di mezzo perché con i soldi stiamo messi un po' un po' male allora un radiatore l'ho comprato poi mi sa che sta roba c'è gli iniettori mi sa che li dovrò comprare due iniettori mi sa che sta roba va comprata comprata car meccaniche in futuro non lo so ah chissà allora due iniettori ovviamente dobbiamo risparmiare raga perché con i soldi non va tanto bene che si fa in questo gioco e si riparano i mezzi sì sì lo so che posso comprare la cpu ma penso che non arriva la cpu col motore no probabilmente la devo comprare allora collettore di scarico la cavolata che devo fare avanti e indietro collettore di scarico quindi ovviamente collettore di scarico sinistra e destra allora vediamo se inizia ad arrivare un po' di roba perché sennò qua va a finire che poi non riesco più a capire compra la cpu vabbè la compro tanto sicuramente col motore non arriva motore cpu ehm limited dai ci spendo qualcosa in più in fondo non compra né non costa neanche tanto alaskan simulator ma è uscito di sentire l'ho sentito ma non è ancora uscito giusto è arrivato qualcosa che cacchio è il radiatore allora vediamo se comincio piano piano arriva un po' di roba raga beh comunque mi sa che la macchina non la finiamo in questo gameplay ma proprio voglio dire live ma probabilmente nella prossima sì perché ho scelto il nome nick è una lunga storia è una lunga storia è un po' lunghetta ma che cacchio è sto rumore insomma il telaio è arrivato magari è nel magazzino vediamo spostamento magazzino l'ho venduto il vecchio telaio prima che c'è rimetto il telaio vecchio no il telaio vecchio non l'ho ancora venduto togliamolo sì la prossima volta veramente è meglio farsi la macchina da zero cavolo allora in poche parole il mio nome vabbè in pratica allora la prima volta che dovevo scegliere un nickname no? la prima volta in assoluto quando ho cominciato a conoscere internet praticamente quando uno si iscrive ti dice scegli un nickname in pratica dato che a me piacciono i giochi ho unito la parola nick con games quindi ho preso questo nickname ho tolto name e ho ottenuto nick e ci ho unito games quindi il mio primo nome era nick games poi la gente mi chiamava nick e da lì ho cambiato da nick games mi sono spostato diciamo a nick ecco questa è la storia del mio nick insomma vediamo un po' se sto telaio arriva comunque fai un video 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 su bus simulator a me piace di più farle live insomma sto telaio è arrivato oppure no? da qualche parte ci deve oh eccolo qua finalmente ormai in pratica quella macchina non esiste più quella macchina raga non esiste più questa è completamente un'altra macchina questa è completamente un'altra macchina non è proprio più quella questo è proprio nuovo oramai cambiate il telaio la macchina è un'altra ormai quella macchina non esiste più vediamo se c'è qualcosa da avvitare così mi tolgo il pensiero no per ora niente tu prendi il caffè tanto tanti caffè ok quindi prossimo passo mettiamo mettiamo i supporti per il motore così poi possiamo montare il motore supporto motore io nella realtà mi chiamo Sebastiano domani è che ora la live? probabilmente domani sera alle 21 perché poi il sabato faccio la live alle 14 quindi penso che la live domani la faccio più tardi fa male tanti caffè? va dipende oe Lupe bentornata allora e dunque mi serve il motore motore gestione motore azione facciamo un video motore nuovo di zecca lo mettiamo qua no motore si motore mi serviva nuovo un momento ma quell'altro allora che cos'è? questo che cos'è? ah questo è quello vecchio certo questo è quello vecchio il 6.6 è quello vecchio meglio che lo vendo prima che vado in confusione aspetta un po' dove cacchio è? il 6.6 è quello vecchio togliamolo prima che mi mi crea confusione allora le cuffie no le mie cuffie non si possono collegare queste cuffie al al cellulare non si possono collegare no allora vediamo un po' come si collega vediamo qua preso e va bassa ah ecco qua perfetto ce l'abbiamo fatta devo controllare il marketing e perché? scusa è noioso sto gioco eh oh questo è può piacere come può anche non piacere dopo su discord no non credo tra poco devo andare a cena poi devo registrare con Alex più tardi allora come stacca motore perfetto ah finalmente ce l'abbiamo fatto finalmente ragazzi abbiamo il motore al suo posto sì le cuffie si collegano con l'USB esattamente ma non mi dire che l'iniettore c'è già no dove l'ho buttato ah questo è l'iniettore che va dall'altro l'alto come perché con Alex come perché con Alex che playstation ho io la 4 allora dove diamine la cpu l'ho comprata no eccola qua la cpu ce l'abbiamo qual era poi l'ordine questi li ho messi ah il radiatore giusto vedi almeno così è più facile mo ci vuole il radiatore da me da me registriamo da me con Alex da me oh vedete che mo è una cavolata perché adesso so qual è l'ordine di rimontaggio no il video con cashbell non l'ho ancora fatto perché non abbiamo potuto farlo ieri io questi giochi li compro sì o anche li ricevo gratuitamente tipo questo gioco qui l'ho ricevuto gratuitamente da chi l'ha creato per provarlo allora fino a qua ci siamo ci vuole il collettore di scarico quindi collettore di scarico 1 e 2 sì sì registriamo farming certo ah già ma anche il collettore qua questo gioco in beta ma non è in beta no non è in beta stanno facendo aggiornamenti ma quello è ovvio che vanno fatti ma in beta non credo cioè manca qualcosina sì ma in beta non credo penso che è completo con alcune mancanze poi se lo vuoi chiamare in beta puoi anche chiamarle in beta ma non da nessuna parte ho visto scritto beta almeno credo comunque quando uso la scala al momento non mi serve ecco mo mi servono invece che cacchio è sta roba braccio superiore sinistra e destra 8 pollici ah può fare la pubblicità all'azienda ah vabbè ma non c'ho soldi da spendere ah e mo che cacchio era braccio superiore 8 pollici sinistra destra va bene anche in acciaio ok continuiamo a comprare dei pezzi eh si si la scala poi si può usare si 8 pollici anteriore titanio sollevamento braccio 8 pollici mamma mia ricordarsi sta roba è proprio una cosa 8 pollici che cavolo era e che so ricordo ho già dimenticato ho già dimenticato i stil nomi complicati basta che pigli tutta la roba 8 pollici si ma sta nelle categorie che era questa la sollevamento braccio dello sterzo perché poi i nomi sono un po messi a caso alle volte sollevamento braccio dello sterzo qui non è ah eccolo qua sollevamento braccio dello sterzo anteriore destra anteriore un momento anteriore sinistra si no ma stacco pure io tra 5 minuti ragazzi 5 minuti perché tanto sta macchina non la completiamo comunque sollevamento asse destra sinistra 8 pollici solleva che cacchio e sollevamento asse asse anteriore 8 pollici anteriore 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 sinistra dopo mangiato si faccio un video ma per domani ovviamente anteriore anteriore asse questo è in titanio ma mi sa che in titanio è troppo caro asse anteriore asse 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 anteriore in titanio manco se può comprare è bloccato non so perché hai bisogno di più fan oro oro asse in oro ma chi è che fai gli asse in oro lo pigliamo in oro ok vedi che i pezzi si quadrano perché non me lo fa mettere che cavolo è che devo fare boh ok avvitatore dove sei è quello qua questo è andato l'altra mappa di farming non lo so raga vediamo ok solleviamo la vettura ma qual è il prossimo questo si e non lasciare le cose in giro veramente le ho messe in giro per ricordarmi l'ordine di montaggio tutto là solo per l'ordine di montaggio le ho messe in giro le cose e poi dove le posso mettere scusate non è che c'è chissà quanto spazio voglio dire si qua c'è il magazzino ma ci stanno un mucchio di scatole inutili diciamo gt5 online no non mi piace il gt5 online classico che diamine manca vabbè manca la roba che come sempre non arriva però dai il motore ah mettiamo mettiamo la trasmissione penso che quella ce la posso mettere pure ora la trasmissione mi sa che ce la posso mettere pure ora allora gestione spostamento magazzino piglio questo lo metto qua allora abbiamo detto la trasmissione era nuova quindi la montiamo ok la trasmissione la mettiamo dai non la trasmissione è è è è è è è è questa è andata allora muo metto l'ultimo pezzo raga e poi basta poi si continua la prossima volta monto questo e poi se va avanti la prossima volta dai alla fine comunque si sto gioco ha bisogno di un bel po' di aggiornamenti perché non ha senso comprare un'auto usata per poi venderla tutta che senso ha cioè non ha senso smontare interamente una macchina e poi che senso ha giusto per recuperare no non recupero niente sono soldi buttati effettivamente che senso ha se uno non può riparare i pezzi a che senso smontare tutta la macchina per venderla non so manco se ci recupero i soldi che ci ho speso sopra quindi questo gioco ancora mi dà qualche dubbio adesso sinceramente mi sa che ha bisogno di essere un po' rivisto questo gioco dagli sviluppatori perché se non c'è la possibilità di riparare i pezzi non ha proprio senso tutto ciò comunque si ragazzi concludo qui questa live spero tanto che vi sia piaciuta mi raccomando raga come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione ci becchiamo domani ragazzi ciao alla prossima ciao ciao